Questo è un tema che sicuramente interessa, adesso in un mondo come quello di oggi in cui le biblioteche ahimè lavorano più a distanza che in presenza, però mi auguro che finirà presto questa fase e torneremo a incontrarci a fare serate culturali, a fare letture in pubblico. E questo si chiama, vedete, viene chiamato nella slide che vi faccio vedere dopo, cioè il cosiddetto piccolo diritto letterario, cioè quello relativo alla lettura in pubblico di opere letterarie, cioè un romanzo o una raccolta di poesie tendenzialmente non nasce per essere letta in pubblico, nasce per essere letta direttamente dal privato che si compra il libro o che sia in ebook o che sia in cartaceo però se lo legge da solo. Tuttavia se si organizza una serata, una giornata di lettura in pubblico, quella genera un diritto che è diverso da quello normalmente versato all'editore con il pagamento del prezzo del libro, è questo, torno sempre alla solita slide, con l'elenco dei diritti. Vi ricordate, i diritti esclusivi di utilizzazione economica comprendevano anche il diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera. Articolo 15 è il diritto, vi avevo detto nel nostro esempio, che si versa alla CIAE quando si fa un'esecuzione in pubblico di un'opera. Quindi sia che io abbia una birreria con il chitarrista che viene a fare la serata chitarra e voce unplugged, sia che io abbia un bar in cui c'è il DJ che fa il DJ set, sia che io abbia, non lo so, una biblioteca, un locale, un'associazione culturale, un teatro in cui viene un attore a leggere Dante, a leggere Manzoni. La differenza è che se leggono Dante e Manzoni il diritto non c'è più perché è scaduto, se leggono Rodari, se leggono Tolkien, caso che è successo, se leggono Tolkien devono pagare questo diritto, ahimè. Infatti, l'esempio di Tolkien, vi invito a cercare, se mettete Simone Alipran di Tolkien Day, ho trovato un mio articolo in cui parlo di questo problema, cioè il Tolkien Day è un giorno in cui i fan dei romanzi di Tolkien, gli appassionati delle storie di Tolkien, si ritrovano e leggono in pubblico le opere, a volte anche, come dire, con un'attività di drammatizzazione, si mettono in costume, è quindi un'attività quasi simile al teatro, è in quel caso si genera un diritto che è articolo 15. E se io organizzo una serata, un Tolkien Day, in una birreria, in un locale che ha attività di lucro, quindi, cioè vende le consumazioni, o addirittura fa pagare il biglietto per poter partecipare alla serata, è ingenuo pensare che il titolare di diritti tramite la SIAE non voglia raccogliere quei proventi, non voglia in qualche modo allungare la mano anche lì. Perché, infatti, cosa dice l'articolo 15, quello che prevede questo diritto? Dice che il concetto di pubblico è un po' diverso da quello che normalmente noi intendiamo, cioè, per la legge sul diritto d'autore, non è considerata pubblica l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro. Quindi, tutto ciò che esula da questi ambiti è considerato pubblico, cioè, il matrimonio fatto in un ristorante, in un agriturismo, con 150 invitati, non è un evento privato per il diritto d'autore, è un evento pubblico che genera il diritto d'autore, che genera l'obbligo di chiedere il permesso e quindi di pagare una licenza, cioè chiedere un permesso SIAE, compilare il cosiddetto borderò e pagare i diritti relativi. Ok? Non è considerata pubblica, vedete, la recitazione di opere letterarie effettuata senza scopo di lucro all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse, individuate in base ai protocolli di intesa tra SIAE e MIBACT, cioè questo pezzo di norma, il 3, è stato aggiunto non tanti anni fa, abbastanza di recente, proprio per venire incontro all'attività delle biblioteche o dei musei e degli archivi di recitazione di opere letterarie, che deve essere, vedete, deve rispettare questi requisiti, il solito che abbiamo trovato sempre senza scopo di lucro, a fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse e comunque nell'ambito dei protocolli che sono stati stabiliti da SIAE e dal Ministero Beni e Attività Culturali. E quindi per capire bene vi invito anche qua ad andare ad approfondire sul protocollo. Ad ogni modo vi faccio questo breve estratto del sito SIAE in cui si legge che se desideri utilizzare, e cioè far recitare o leggere in pubblico, riprodurre su CD audio, DVD o altro supporto meccanico, diffondere per radio, per televisione o su internet opere letterarie protette dalla legge sul diritto d'autore, che siano state create da autori che hanno affidato alla SIAE la loro tutela, dovete ottenere preventivamente l'autorizzazione della SIAE. Altro thriller, cioè non è detto che tutti gli autori di opere letterarie siano iscritti SIAE e abbiano delegato a SIAE l'attività di tutela e quindi in mancanza di un rapporto tra l'autore e la SIAE io in teoria dovrei per essere, per stare tranquillo, chiedere direttamente alla casa editrice o all'autore, comunque al titolare dei diritti, un'autorizzazione. Qualora gli autori invece abbiano diritto a SIAE, allora la SIAE si occupa dell'intermediazione di questo diritto, cioè ci concede lei l'autorizzazione per questo piccolo diritto letterario. Però, e qua sicuramente sarete contenti, però effettivamente c'è già un protocollo che ammorbidisce un po' la questione, soprattutto per le biblioteche pubbliche, perché dice che in alcune condizioni non è necessario chiedere una vera e propria permesso SIAE, ma è sufficiente una comunicazione. Eccolo qua. SIAE e MIBACT, con il coinvolgimento di tutte le associazioni interessate, hanno seglato un protocollo che definisce le condizioni di applicazione della norma dell'articolo 15 riportate nel documento applicazione, protocollo lettura in biblioteca. Dovete questo andarvelo a cercare. Poi vi aggiorno il link qua sotto che c'è. Per poter beneficiare dell'articolo 15,3 è stato predisposto il modello di autocertificazione da compilare a firma del responsabile del museo, archivio biblioteca pubblici e da inviare tramite posta elettronica certificata all'ufficio SIAE letteralmente competente. Cioè, non dovete chiedere un vero permesso, che è una scocciatura perché dovete andare alla SIAE e dirgli che tipo di evento fate, quanta gente, che capienza del locale c'è. Loro vi danno un borterocco in cui inserite i titoli delle opere che vengono lette. Ecco, essendo voi biblioteca pubblica, la legge ha già... la SIAE, in protocollo, in accordo col MIBACT, ha già previsto una semplificazione. Cioè, vi basta compilare questo modello di autocertificazione e inviarlo via PEC, in modo tale che avete la prova dell'invio. La PEC non è una posta elettronica certificata, cioè fa prova sull'invio e sul ricevimento. Si ricorda che l'invio del modello di autocertificazione permette all'istituzione di non richiedere la licenza SIAE e di non versare il diritto d'autore solo per le manifestazioni per cui ricorrono i requisiti indicati al protocollo. Cioè, guardate come subito sono guardinghi, cioè, vi hanno detto, c'è un'autocertificazione, però questa autocertificazione deve essere comunque nel solco di quanto noi abbiamo stabilito nel protocollo. Ripeto, in una sede come questa non è possibile andare ad un livello di approfondimento ulteriore, però se cercate in rete trovate tutti questi documenti e tutta la spiegazione del protocollo che credo sia sufficientemente chiara. E questo appunto vi permette di non diventare matti se fate letture in biblioteca. Subito chiarisco una questione che immagino qualcuno abbia già lì pronta come domanda, così evitiamo, evitiamo la domanda, cioè che non riguarda le letture su internet. Cioè, se la biblioteca è chiusa perché c'è il covid e io sposto questa attività sulla mia pagina web o sulla mia pagina, ancora peggio, sul mio canale YouTube o sulla mia pagina Facebook, non posso usare questa norma perché questa norma parla delle letture in biblioteca, cioè nei locali della biblioteca. Anche perché se io sono su YouTube e su Facebook c'è comunque un po' di lucro, anche se non è nostro, però ci lucrano Facebook e YouTube, cioè c'è qualcuno che in qualche modo indirettamente ci mette della pubblicità, o quantomeno vende il traffico, cioè creo traffico sui loro server e questo porta loro un profitto. Quindi togliamoci subito il dubbio che questa norma possa in qualche modo salvarci anche se facciamo letture giornate intere su YouTube o su Facebook di declamazioni di opere perché c'è l'emergenza covid. Purtroppo o esce un decreto che dice che per l'emergenza covid si esentano le biblioteche anche da questo, se no in mancanza di una norma o di un apposito protocollo ricadiamo nel vecchio mondo, per cui queste norme riguardano solo le letture fisicamente fatte in biblioteca, nei locali della biblioteca. Una domanda, nel caso se invece la proposta di lettura sia rivolta esclusivamente ad una classe, quindi alla scuola? Allora, qua parliamo di, vedete, dov'è? All'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici. Cioè questa norma si occupa di, il coma 3 e il protocollo che lo applica si occupa delle biblioteche. Le scuole rientrano da un'altra parte, cioè nel coma 2. Ovvero, vedete, dice, non è considerata pubblica l'esecuzione, la rappresentazione, la recitazione dell'opera nella cerco di linea della famiglia, del convitto, della scuola, dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro. Ok? Quindi la scuola rientra in questo coma. Detto questo, la scuola che organizza, che ne so, che porta, che organizza la visione, una volta noi lo facevamo, al liceo c'era una volta al mese, si guardava un film, si faceva cineforum. Eh sì, però non è una pubblica esecuzione, rappresentazione, recitazione di un'opera. Se la scuola va al cinema, detto volgarmente, oggi la scuola sarà al Cinema Teatro X di Sesto San Giovanni a vedersi un film, lì è difficile sostenere che sia un'attività tipicamente scolastica, didattica, ma perché stiamo utilizzando anche un locale a cui accedono non solo gli studenti, ma anche, che ne so, il cugino, l'amico, la mamma che vengono a vedersi il film. Ecco, dobbiamo stare attenti a non cadere in questi equivoci. Quindi so che un altro protocollo, che non è col MIVAC, ma è con il Ministero dell'Istruzione, permette alle scuole di avere una sorta di licenza molto ampia, per cui pagano una cifra simbolica che è nell'arco delle, se ricordo bene, circa 80 euro all'anno, quindi è davvero una cosa minima, e con quelle le scuole, diciamo, hanno una sorta di via libera a proiettare film, a fare vedere, non so, opere musicali, e via dicendo, che, diciamo, senza la preoccupazione di ricadere in, di uscire dagli ambiti stabiliti della legge, ok? Anche lì vi invito a cercare maggiori dettagli in rete, o su altri miei corsi, questo era un corso pensato per le biblioteche, e quindi non ho pensato all'aspetto, cioè non mi sono fermato sull'aspetto delle scuole.